Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fipili per lavori, un chilometro di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sempre in Fipili, coda in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!